Sbarcati ad Ancona e 73 naufraghi della Geobarense. Edilizia scolastica, tanti cantieri al via Pesaro. Biodigestore, il comune di Vallefoglia blocca il progetto. CNA Claudio Tarsi e il nuovo direttore provinciale. Fossombrone celebra i 600 anni di Federico da Montefeltro. Una buona serata telespettatori di Rossini TV e benvenuti a questa nuova edizione di Rossini News. Telegiornale di giovedì 12 gennaio che apriamo con le immagini del secondo sbarco ad Ancona di navi di profughi soccorse nelle Mediterraneo. Dopo la Ocean Viking, questa mattina, nelle Porto d'Orico, è approdata anche la Geobarense di Medici Senza Frontiere, con 73 naufraghi a bordo soccorsi a largo della Libia. La nave è arrivata ad Ancona dopo 5 giorni di navigazione, uno in più del previsto a causa delle avverse condizioni del meteo. A bordo 20 minori, 5 dei quali non erano accompagnati. E da più di due mesi la terra marchisana non ha mai smesso di tremare. Intensità di terremoto che è tornata a farsi sentire questa mattina con una scossa di magnitudo 3.7 con epicentro in mare a 50 km dalla costa affanese. La scossa è avvenuta alle 8.06 ma non si registrano danni. Ed ora ci occupiamo di edilizia scolastica perché sono tantissimi i cantieri che partiranno nel 2023 nelle comuni di Pesaro. Fra costruzioni e riqualificazioni ce ne parla l'assessore Riccardo Pozzi in questo servizio. L'edilizia scolastica resta una priorità di questa amministrazione. C'è grande attenzione rispetto a un rinnovamento di quello che è il patrimonio scolastico della città. Abbiamo ottenuto in questi mesi finanziamenti importanti che ci consentono davvero di dare una svolta agli edifici. Mi riferisco in particolare agli ultimi finanziamenti importanti ottenuti che ci consentono di realizzare di fatto due nuove scuole, quindi demolizione e ricostruzione con edifici in ZEB. ZEB sta per Near Zero Buildings, quindi da un punto di vista di efficientamento energetico, oltre che sismico, strutture assolutamente all'avanguardia, il legno con ottime prestazioni, in particolare come dicevo il nuovo polo di infanzia di Via Rigoni, che quindi sarà una struttura come dicevo al pari della pluripremiata Brancati, anzi per certi aspetti per signo superiore. Avremo quindi 3 milioni e 6 ottenuti dal PNRR per andare a realizzare un nuovo polo di infanzia. avremo poi l'intervento sull'Anna Frank, quindi anche in questo caso una demolizione e ricostruzione di una scuola, veramente anche in questo caso una scuola al top da un punto di vista delle prestazioni. Abbiamo poi altri interventi, alcuni sono già partiti, altri che partiranno lo stesso, sempre legati al PNRR, penso ai due interventi partiti sulla palestra della scuola di Via Fermi, così come sulla palestra della scuola di Borgo Santa Maria. Abbiamo poi un altro intervento importantissimo che è appunto il completamento, se vogliamo, della Brancati con la realizzazione in questo caso di una palestra da nuovo che servirà appunto ai ragazzi della Brancati. Una palestra anche in questo caso diciamo coerente rispetto agli obiettivi e alle prestazioni della pluripremiata Brancati. Poi abbiamo un altro intervento che in questo caso invece non prevede una demolizione e ricostruzione ma prevede un intervento importante di 5 milioni e mezzo sulla Manzoni. Anche queste risorse ottenute tramite il PNRR in un finanziamento che ha vinto il Comune di Pesaro su un bando regionale che appunto ci consentiranno anche in questo caso di andare a efficientare la struttura, metterla in sicurezza e prevedere anche un ampliamento individuando degli spazi che poi verranno assegnati al quartiere, l'attività della città, del quartiere. E nell'edizione di Rossini News di ieri ci siamo occupati dell'ex Bramante. Oggi invece vi informiamo di nuovi sviluppi su quello che di fatto è il Palazzo di Rimpettaio. Quello dell'ex Banca d'Italia che dopo anni di inutilizzo è in e procinto di passare all'Agenzia a Dogane e Monopoli di Stato che attualmente hanno ufficio alle porto di Pesaro in Calata Caio Duiglio. L'edificio di quattro piani e oltre 4 mila metri quadrati da domani avrà il passaggio formale alle Dogane riportando in attività allo stabile di via Rossini. E da Pesaro ci spostiamo a Vallefoglia e torniamo a parlare delle biodigestore di Talacchio sulla cui realizzazione ora si è opposto anche lo stesso Comune di Vallefoglia in seguito ad alcune modifiche progettuali che andiamo a approfondire in questo servizio. Il biodigestore di Talacchio non sa da fare. A mettere la parola fine sul nuovo impianto anaerobico capace di trattare 105 mila tonnellate di rifiuti ci ha pensato la giunta comunale di Vallefoglia che si è detta contraria agli sviluppi del progetto nato 6 anni fa. All'epoca Ucchielli era il suo secondo anno di mandato come sindaco della sua città e sempre in quell'anno in quelli successivi prese piede l'idea di un impianto integrato di biodigestore di compostaggio di rifiuti che sarebbe dovuto sorgere a fianco della zona industriale di Talacchio, pari ad un'estensione di circa 40 mila metri quadri su 12 ettari di terreno in cui viene coltivato grano. La struttura, progettata dalla società Green Factory e da Marche Multiservizi, avrebbe trattato rifiuti prodotti da abitazioni, bar e ristoranti ma anche scarti di potatura e sfalci d'erba. Ora però, a causa dell'esclusione di asset dal progetto e altri impianti simili approvati nella regione, come quello di Barchis eppure in dimensioni ridotte, ha portato definitivamente la giunta comunale di Vallefoglia a scuotere la testa. Era partito 6 anni fa, votata all'unanimità che il biodigestore di quella dimensione si sarebbe fatto a Fano per tutta la provincia. Si sono persi 6 anni di tempo, si è fatto tutta una serie di polemiche a Fano, a Cannavaccio di Urbino, poi a Vallefoglia. E poi la novità per la quale noi abbiamo detto seccamente no è che sono stati autorizzati due biodigestori, uno a Barchi e uno a Fermo. Quindi non ha più senso, è cambiato lo scenario, anzi io penso che Marche Multiservizi farebbe bene a ritirare quel progetto che non è più d'attualità, perché sono raddoppiati i costi, perché non è più conveniente. In verità noi non avevamo mai detto che eravamo d'accordo e quindi abbiamo detto che di fronte a tutto ciò che di nuovo oggi non ha più nessun senso e quindi sarebbe opportuno ritirare quel progetto e magari Marche molti rivisti dialogare con Fano, con gli altri impianti già autorizzati. E a quattro mesi esatti da quel 15 settembre in cui tutta la provincia di Pesaro Urbino e quella di Ancona furono colpite dall'alluvione, il comune di Cantiano ha programmato per domenica 15 gennaio alle ore 17 un'assemblea pubblica in cui è convocata l'intera cittadinanza. Un confronto che avverrà presso la sala multimediale Chiostro di Sant'Agostino per discutere e aggiornare sui provvedimenti di sostegno al momento attivati ed operativi e sulle prospettive di ripartenza dell'intera comunità colpita. Ed ora ci occupiamo di una segnalazione che ci è arrivata da un nostro cittadino. Come sempre, come di consueto, vi ricordo il numero al quale inviare le vostre segnalazioni 370-366-7210. Vi ricordo che potete inviarci foto, video o semplici messaggi di WhatsApp. In questo caso la segnalazione ci porta a Vismara, quartiere in cui documentiamo un caso di abbandono di rifiuti. Rossini TV torna a rispondere alle segnalazioni di voi telespettatori che riguardano ancora una volta un abbandono ingiustificato di rifiuti, come quello che viene documentato da queste immagini girate in via Volga, strada chiusa del quartiere peserese Vismara, collocata in prossimità di diversi cantieri edili dove, secondo alcuni residenti della zona, non è inusuale che furgoni di imprese di costruzione scarichino scarti di lavorazione il mattino presto. Il risultato è un cumulo di sporcizia ingiustificato, tra l'altro all'ingresso di un percorso nel verde e fra i canneti, ora reso impraticabile. Una segnalazione che è stata inoltrata anche agli organi competenti per la pulizia dell'area. Vi ricordiamo come sempre il numero whatsapp dedicato 370-366-7210 per segnalare a Rossini TV casi di incuria ed è grado da risolvere. Ancora spazio alle segnalazioni, questa volta una segnalazione che arriva dal gruppo Facebook Associazione Genitori Villa San Martino, che lancia l'allarme sulle condizioni di una classe della scuola elementare Don Milani a Villa San Martino, dove da metà ottobre insegnanti e alunni fanno lezioni con muffa sparsa in gran parte delle pareti del soffitto dell'aula. I genitori a fine ottobre avevano segnalato il problema al comune e alla scuola, ma nonostante le rassicurazioni su un intervento in tempi brevi, lo stato della classe è ancora oggi nelle stesse condizioni. Ed ora vi informiamo che nella serata di martedì 17 gennaio alle ore 21 Stefano Bonaccini sarà a Pesaro, nella sala conferenze dell'hotel Baia Flaminia, dove presenterà le sue idee e le sue proposte come candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Claudio Tarsi è il nuovo direttore della CNA di Pesaro Urbino. Succede nell'incarico a Moreno Bordoni alla guida dell'Associazione Provinciale per oltre dieci anni ed eletto a dicembre come segretario della CNA delle Marche. Tarsi, 54 anni, di Marotta, è in CNA dal 1990 ed è stato eletto ieri all'unanimità dalla direzione provinciale. Guiderà l'Associazione nel ruolo di direttore, nuova declinazione nell'incarico di rappresentanza, che va a sostituire quella storica di segretario, uniformando così il profilo di coordinamento della CNA provinciale nelle Marche. E, ad un mese dall'inaugurazione del Museo Archeologico Oliveriano, l'Ente Olivieri organizza, in collaborazione con il Comune, le giornate di studio, nuove prospettive museali a cura di Chiara Del Pino, che si terranno domani, dalle 15 e sabato, dalle ore 9.30, presso la Sala dello Ziodiaco della Biblioteca Oliveriana. Le giornate di studio saranno l'occasione di riflettere sulle diverse e recenti esperienze nei tema di linguaggio museali, con particolare attenzione ai nuovi mezzi di comunicazione digitale, sulle dinamiche in essere tra ibridazioni e sconfinamenti dei linguaggi. E dalla Biblioteca Oliveriana passiamo a Biblioteca San Giovanni, che domenica inaugura il suo 2023 con un progetto dedicato all'infanzia. Si chiama Piccole Voci per Grandi Libri. Vediamo il servizio. Pesaro Città che Legge inizia il suo 2023 con un nuovo progetto, questa volta rivolto ai più piccoli. Si chiama Piccole Voci per Grandi Libri, il nuovo ciclo di appuntamenti organizzato dall'Associazione La Voce dei Libri, in cui bambini tra i 6 e i 12 anni leggeranno pagine di letteratura ad altri coetanei. Un progetto che coinvolge la Biblioteca San Giovanni, luogo nella quale si partirà il 15 gennaio con C'era una volta un re, storia di principi, regine e imperatori. Primo di quattro incontri, chi si terranno fino ad aprile. Coraggioso intanto perché affida, come abbiamo già sentito, ai bambini proprio la lettura consapevole di un testo. Consapevole vuol dire che i bambini, proprio che letgo, i piccoli lettori, si preparano alla lettura di questi testi e si preparano sentimentalmente ed emozionalmente a restituire appunto l'emozione e i sentimenti di questi testi ad altri bambini. La nostra speranza è che appunto si crei un processo di empatia, un processo di mimesi naturale negli ascoltatori di tutte le età. Sono 11 piccoli lettori che sono figli o nipoti ovviamente di grandi lettori, quindi anche perché appunto il contagio della lettura è vero, diceva qualcuno, non si può insegnare la lettura come non si può insegnare l'amore, però si può contagiare e portare il buon esempio. Ecco, queste sono quattro belle occasioni di lettura ad alta voce che fanno della parola anche l'immagine, nel senso per una volta si ascolterà solo, non si vedranno le immagini. Le immagini le metteranno proprio i bambini nella loro fantasia, nella loro capacità e volontà di riflettere sulle cose che ascoltano e quindi diamo veramente alla parola il suo ruolo da protagonista, la parola che Don Milani definiva la chiave fatata che apre ogni porta. Ecco, questa è una bellissima definizione e penso che la porta della loro curiosità, dell'entusiasmo e dell'amore per i libri, visto che lo facciamo anche in un luogo per eccellenza, insomma, che è un luogo dei libri in cui le pareti sono fatte di libri, possa essere lo scopo di questa piccola ma importante iniziativa. L'importanza della lettura ad alta voce è destinata a contagiare e coinvolgere attivamente i giovanissimi e non, riscoprendo quanto può essere bello leggere ma soprattutto ascoltare un libro, ancor meglio se in compagnia. È un'idea delle voci dei libri di Lucia Ferrati, sono piccoli lettori che leggono a bambini, insomma, quindi per noi è parte integrante di uno dei compiti della biblioteca, cioè quello comunque di promuovere la lettura, attraverso la lettura ad alta voce, una cosa che già facciamo col progetto Nati per leggere, tra l'altro partirà a breve un corso per volontari all'interno del progetto Nati per leggere. Quando le voci dei libri ci hanno proposto questa attività ci è sembrato fondamentale, naturale e siamo stati felicissimi di accoglierla all'interno della nostra struttura, come tutte le attività di promozione della lettura. In più, sia noi che le voci dei libri siamo partner all'interno del patto della lettura di Pesaro Città che legge, quindi ci sembra importantissimo dare in un qualche modo veramente spazio agli altri partner collaborando insieme a loro. E il 5 febbraio partirà la rassegna Federico e Fossombrone. Tra cultura e promozione turistica sono tanti gli eventi in programma nel territorio forse empronese per celebrare le duca del Montefeltro all'insegna della sua eredità artistica. Il servizio di Simone Celli. Condottiero, mecenate, umanista, capitano di ventura. Federico da Montefeltro era tutto questo e molto altro ancora. Come non celebrare perciò i 600 anni dalla sua nascita? Lo stanno facendo tutti quei territori che erano parte integrante del suo ducato e Fossombrone non poteva di certo essere da meno. Qui il lascito di Federico è davvero imponente. Fossombrone entra nel ducato di Urbino nel 1445 quando Federico l'acquista da Galeazzo Malatesta il Pavido e da quel momento in poi è una città amata da Federico e dal figlio di Guidubaldo che addirittura muore a Fossombrone. Sei gli appuntamenti in programma dal 5 febbraio al 2 aprile. La rassegna dal didascalico nome Federico e Fossombrone promossa dal Comune, dalla Regione Marche e dal Comitato Nazionale per le celebrazioni di Federico 600 con la collaborazione di Confcommercio Marche Nord e dell'ufficio IAT si concentrerà soprattutto su due aspetti fondamentali la musica e l'arte, nello specifico la scultura. Il programma prevede una riflessione sulla musica per liuto che era la musica tipica nelle corti del tardo 400 e del primo 500 e il liuto è stato uno strumento conosciuto, suonato e amato particolarmente anche da forsempronesi. Infatti un liutista forsempronese, Francesco Spinacino da Fossombrone viene definito all'epoca l'Orfeo del liuto tanto che il suo concittadino Taviano Petrucci ne pubblica l'inte a volature quindi noi porteremo a Fossombrone il più grande virtuoso del liuto Hopkinson Smith che è un liutista americano che vive in Svizzera e il 24 di febbraio ci sarà un concerto di liuto di Hopkinson Smith in anteprima internazionale. L'altro aspetto invece che mettiamo a fuoco è il Magistero di Domenico Rosselli uno scultore toscano che viene chiamato da Federico ad Urbino e realizza il Camino degli Angeli tra le cose più significative e Domenico Rosselli verrà anche a Fossombrone dove si stabilirà perché si sposerà a Fossombrone e lascerà opere importantissime. Noi ne parleremo in una conferenza e un percorso guidato alla scoperta delle opere di Domenico Rosselli. L'ultima parte del programma sarà invece legata ai simboli di Federico. Uno studioso di araldica Antonio Conti ci illustrerà le sue acquisizioni e scoperte più recenti dopo aver studiato anche i nostri soffitti del Palazzo Ducale. Come sempre le iniziative di questo calibro contribuiscono sì a fare cultura ma anche ad attrarre un buon numero di turisti. È un mezzo di promozione importantissimo soprattutto per le nostre strutture museali perché Federico, oltre ad essere la storia di Fossombrone, rappresenta le nostre strutture. Dalla prima innanzitutto quella che guarda dall'alto Fossombrone che è la Rocca e scendendo il Palazzo Ducale che è composto dal Museo archeologico e la Pinacoteca di Fossombrone. Palazzo che in tutto, appena entri, respiri l'area di Federico e quindi questo deve incentivare i turisti a venire qui a Fossombrone. Al di là delle celebrazioni, forse il più bel regalo di compleanno Federico l'ha ricevuto proprio dal comune di Fossombrone. Abbiamo acquistato quella parte di corte alta che ci mancava per collegare il museo civico con la Pinacoteca in modo tale che con un futuro progetto che dovremmo realizzare a breve e poi finanziare chiaramente l'intervento riusciremo a dare, oltre alle uscite di sicurezza che mancavano ma soprattutto riusciremo a dare anche una maggiore continuità e una maggiore offerta turistica e di promozione al nostro territorio. E ora cambiamo argomento e passiamo allo sport. Domani sera torna in campo l'Ital Service e Pesaro di mister Fulvio Colini. Dopo il primo successo nelle 2023, la squadra pesarese cerca la riconferma nelle classico con Pescara. Il servizio. L'anno nuovo, iniziato col piede giusto, conforta ma non rasserena appieno un Ital Service che sa di avere davanti a sé un 2023 molto complesso e non aiutato dagli infortuni che continuano a mutilare le scelte a disposizione di mister Fulvio Colini. La squadra biancorossa riparte dal grande cuore con cui ha battuto il Petrarca Padova nel giorno dell'Epifania. Un galvanizzante 2-1 con i gol di Alflenne e de Oliveira a ribaltare il vantaggio veneto e a dare un colpo di spugna a un preoccupante filotto di sconfitte consecutive con cui l'Ital Service si era congedata dal 2022. Finalmente un sorriso al quale si aggiunge quello splendido dell'organizzazione delle Fanals Cup a Pesaro impreziosite dalla vittoria dell'Under 17 dell'Ital Service nella Coppa Marche per il secondo anno consecutivo. Con la vittoria sul Petrarca l'Ital Service chiude il girone d'andata con 15 punti in 15 gare frutto di metà percorso da 4 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte. Una dote che la tiene all'undicesimo posto a pari merito con Ciampino ovvero con un piede in zona salvezza e l'altro in quella play-out motivo per cui nel ritorno ci si gioca tanto. Ritorno che comincerà con un classico, quello con il futsal Pescara che metterà di fronte le due squadre più vincenti della storia del calcio a 5. Pescara arriva a Pesaro a reduce dalla vittoria di Pistoia con un sesto posto in classifica. Pesaro continua però a convivere fra mille problemi. Vedi gli infortuni di João Miguel, Fortini, Canal e Ruan. Si giocherà al Palafiera venerdì 13 gennaio alle 20.30. È partito bene ma non è una novità anche il 2023 dell'Ital Service Loreto Basket che a Baia Flaminia ha battuto 63 a 45 Perugia conquistando la sua tredicesima vittoria su 13 partite giocate che consente a Loreto di proseguire la marcia trionfale in vetta alla classifica. Domenica il Loreto Basket sarà di scena a Porto San Giorgio. E concludiamo ancora con lo sport. Dall'Ital Service Pesaro passiamo alla Vise Pesaro che ha ufficializzato l'ingaggio delle difensore Denis Tonucci. 34enne, pesarese Doc, giocherà per la prima volta nella squadra della sua città dopo una lunga carriera di Serie B con le maglie di Cesena, Vicenza, Bari, Foggia e anche in Ligan francese con l'Aiaccio. Contestualmente è stato ingaggiato in prestito dalla Sampdoria anche il difensore 21enne Ertion Giega reduce da una stagione da titolare in Serie D con la Cavese. E con quest'ultima notizia di sport si conclude qua il nostro telegiornale. Prima di salutarvi però vi ricordo la programmazione sul nostro canale a cominciare dalla prima serata di questa sera con il programma Insieme a Canestro che torna nella sua prima puntata del nuovo anno del 2023. Marco Cadeddu ospiterà Dejan Kravic, il pivot della Carpegna Prosciutto Basket e Pesaro ed Enzo Belloni questa sera in veste di allenatore del settore giovanile. Vi ricordo che oltre alla diretta sulle canali 80 Insieme a Canestro sarà visibile anche sul nostro canale Facebook sempre in diretta dove potete commentare e rispondere anche al contest dove si vincono anche i biglietti per le partite della Carpegna Prosciutto e inoltre il numero di Whatsapp a cui poter commentare 370-366-7210 questa sera insieme a Canestro in diretta alle ore 21.20. Appuntamento come di consueto domani mattina alle ore 7.20 con la rassegna stampa in diretta sul canale 80 in diretta anche su Facebook con le repliche che vedete in grafica ore 8.20, 12.30, 14.18 domani mattina per l'occasione la rassegna sarà condotta dal nostro Daniele Sacchi. Abbiamo detto tutto, io vi lascio le previsioni delle meteo e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.